Se non sono rapporti incestuosi, poco ci manca. Il fatto è che Autostrade per l'Italia, sotto l'attento presidio dei Benetton, ha saputo coltivare davvero bene il rapporto con la politica e con il poliedrico mondo dei boiardi di Stato. Un rapporto lubrificato in ogni ingranaggio, utilizzando sapientemente e costantemente l'olio delle nomine. Troppo importante, dal loro punto di vista, difendere in ogni modo un tesoro accumulato grazie ai pedaggi pagati dagli italiani. È quanto denunciato dal Movimento 5 Stelle in un post sul proprio blog. Si tratta, spiegano i 5 Stelle, di un modus operandi impressionante, che dura da anni e non accenna certo a finire. I nomi e gli esempi si sprecano. Si prenda la tangenziale di Napoli, la concessionaria controllata da autostrade che controlla l'omonima infrastruttura. Ebbene, alla presidenza, ancora oggi, troviamo un esponente di spicco della Prima Repubblica, Paolo Cirino Pomicino, già fedelissimo di Giulio Andreotti e ministro del bilancio. Lo stesso Pomicino, la cui rete evidentemente ha ancora una certa capacità di incidere, è vicepresidente delle autostrade meridionali, altra controllata di autostrade che gestisce la 3 Napoli-Pompei-Salerno.